bentornati nella cucina di monica oggi prepareremo la pastiglia di grano ecco quegli ingredienti saranno un po tantini questa volta allora per fare la pasta frolla avremo bisogno di 500 grammi di farina 3 tuorli d'uovo 200 grammi di burro margarina 200 grammi di zucchero metà limone spremuto e metà arancia spremuta e un pizzico di sale poi per gli ingredienti invece per il ripieno avremo bisogno di 580 grammi di ricotta 500 grammi di zucchero 580 grammi di grano 300 grammi di latte 500 grammi di crema pasticcera 8 tuorli d'uovo cannella millefiori strega vanillina buccia di limone buccia d'arancio come prima cosa adesso andremo ad impastare la pasta frolla seriamo la farina lo zucchero limone arancia spremuta il 3 tuorli d'uovo la margarina e il pizzico di sale adesso andiamo ad impastare una volta che il nostro impasto sarà pronto andremo a mettere in un recipiente più piccolino lo copriremo con della carta velina e lo metteremo in frigorifero adesso andremo a cuocere il grano allora ecco qui il grano di questo qui è precotto normalmente c'è chi non lo cuoce ancora una volta ma io preferisco farlo perché mia mamma lo faceva così e quindi così lo faccio anch'io allora prendiamo il grano andiamo a mettere in una pentola e andremo ad aggiungere il latte ed un cucchiaio di burro ecco qui una volta che il composto sarà diventato una crema lo spegneremo adesso lo faremo cuocere un po una volta che il grano sarà cotto ecco qui lo andremo a mettere in una ciotola abbastanza caliente dipende dai gusti c'è chi lo frulla chi non lo frulla io sinceramente lo frullo perché i pezzettini di grano in bocca non mi piacciono adesso andremo ad aggiungere tutti gli altri ingredienti la ricotta questa l'abbiamo passata con lo schiacciapatate i tuorli lo zucchero la cannella la strega io metto la strega ma voi potete mettere qualunque tipo di ricore vi piace arancio e limone grattugiato poi abbiamo mille fiori fiori d'arancio vanillina e infine io aggiungo la crema pasticcera che è facoltativo chi la mette e chi non la mette a me piace quindi la mettiamo la cosa che io non metto sono i canditi anche se la la pastiera riporta ma a noi a casa non piacciono a nessuno quindi non li metto ma voi mettetevi se vi piaccia adesso andremo a creare il nostro impasto il nostro composto finale dovrà risultare così eccolo qua questa è la consistenza giusta adesso andremo a prendere la pasta pro le inizieremo a stendere il tutto questa non è molto 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 quindi si riesce a stendere facilmente col mattarello se poi avete difficoltà la stendete con una carta forno come abbiamo fatto la torta della nonna una volta che la nostra sfoglia avrà preso questo spessore sottile la prenderemo l'avvolgeremo vicino al mattarello in questo modo prenderemo una teglia che io già ho ingurato e infarinato in precedenza l'andremo a mettere sopra in questo modo ecco qui non la andremo a tagliare ancora perché metteremo prima la nostra crema all'interno se non la pasta lateralmente poi se ne scende ecco qui io con questo impasto con queste dosi ci faccio quattro teglie di questa grandezza perché a me piacciono sottili però c'è chi li fa anche più doppie dipende dai gusti ecco una volta che abbiamo riempito la mettiamo a lato e andiamo a formare delle strisce ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui la pastiera è pronta adesso la dobbiamo solo infornare questa va in un forno preriscaldato io l'ho già preriscaldato a 200 gradi lo abbasso lo metto a 180 una quarantina di minuti più o meno poi dipende dal vostro formo e dalla consistenza della pastiera ed ecco a voi la pastiera è pronta mettiamo lo zucchero a vero questa ve la offro un bacio a tutti quanti e grazie alla prossima ciao ciao